Le sedute del Consiglio regionale Nella seduta del 30 settembre il Consiglio regionale ha adottato due atti deliberativi per chiedere un referendum per abrogare le norme per accorpare i piccoli tribunali. Il 1 ottobre l'Assemblea ha concluso il dibattito generale sulle proposte per la caccia e ha svolto una seduta straordinaria sull'assistenza agli anziani. Nella mattina del 2 ottobre il Consiglio regionale ha dibattuto sulle attività di volo in Piemonte e ha approvato due documenti per l'impegno al rilancio dell'aeroporto di Caselle. Insediata la Commissione antimafia Il 30 settembre si è insediata la Commissione speciale di indagine per la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata, istituita dal Consiglio regionale nel luglio scorso. Nella prima seduta sono stati eletti come Presidente Andrea Buquicchio Italia dei Valori e in qualità di Vice Presidenti Daniele Cantore Popolo della Libertà e Andrea Stara insieme per Bresso. Fare rete contro il dolore In Piemonte l'attenzione alla terapia del dolore e la capacità di fare rete tra ospedale e territorio sono più spiccate che in altre regioni italiane. Lo conferma il progetto Link Up, un'indagine condotta dall'Associazione Vivere Senza Dolore nel primo semestre 2013, i cui risultati sono stati presentati a Palazzo Lascaris nell'incontro organizzato dalla consulta delle elette. Sono intervenuti la Presidente Giuliana Manica, l'Assessore alla Sanità Ugo Cavallera, Marta Gentili dell'Associazione Vivere Senza Dolore e Rossella Marzi della Commissione Terapia del Dolore della Regione. Casimiro Teia sulla vetta dell'umorismo Fino a 16 novembre nella sede di Vie Piave 21 dell'Archivio di Stato di Torino è aperta la mostra Casimiro Teia sulla vetta dell'umorismo. Disegni, vignette e immagini del Principe dei Caricaturisti che visse a Torino nella seconda metà dell'Ottocento e fu direttore della Pasquino. Tema dominante è la montagna, in omaggio ai 150 anni della Fondazione del Club Alpino Italiano. Giornata Mondiale dei Sordi In occasione della giornata mondiale il Consiglio regionale dell'ente nazionale Sordi Piemonte, presieduto da Corrado Gallo, ha tenuto un incontro per ringraziare i comuni che hanno riconosciuto la lingua italiana dei segni e per consegnare gli attestati alle allieve che hanno concluso il corso interpreti lisse di Torino e Biella. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Regione, rappresentata dalla consigliera Augusta Montaruli. All'incontro era presente anche il consigliere Mario Carossa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!